Sì, non so se io pensare di qualche dubbio ce l'ho. Io trucco. Ma dai. Qualche dubbio ce l'ho. Però per scherzare la cosa sono stata una mia certezza. Per far uscire una cosa del genere. Per far uscire una cosa del genere, a livello anche nazionale, anche internazionale. Appunto, ma io ti sto dicendo che... Significa che loro ti stanno dando del falso e del ladro. Ma infatti quello che ho detto, se loro scrivono così, sembra che ci vado in mezzo io. No, sembra. Invece loro dicono... No, no, sono sicuri. No, no. Perché non li denuncii, no. Appunto, no, io dico loro, ma io li denunzio se... Ma loro sono sicuri, mandavano sul sito una cosa del genere. Secondo me se non ha giocato più, non lo mette fuori cosa. Se non lo dà sei mesi fuori. Ma che scassiamo è che è brava io. No, ma io penso che lui sia in nocere. In senso... Ma che? Per far uscire una cosa del genere, qualche motivazione ce l'hanno. No, lo sono sicuri. A cento per cento. Ma lo fanno uscire una cosa del genere. Ma questo lo voglio dire io. Ma non lo fatti. Ma capito, ma... Te dovete chiamare o... No, io... Ma... C'hai capito che ti hanno buttato del ladro e dell'imbroglione? Ma che sito è questo? Che io non sono cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, voglio anche io mettere un po' dei voti per me. Lo so, ma non è così. Ma cazzo, non è così. Non è così. Tu... Puoi fare una votazione per dire... Dai una votazione, tu ti sei... Ma sì, ma che mi spoglievi. Allora poi dopo cosa? Ma lo fa tutto, forse. No. No, no, 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 no. Ma quando ti dico... Se hai scoglificato qualcosa... Ma scherzi, ma che cosa hai scoglificato? Io sono sicuro pure così. Se no, no, no. No, no. Tu ridi. Io sono sicuro pure così perché loro se no non te lo dicevano. Ma sicuro che c'è qualcosa di irregolare è sicuro perché sennò non avrebbero fatto una cosa del genere. Così ti è andato. Ma io... Ma io... Ma siccome va contro la mia persona... Siccome va contro la mia persona ma non possono fare una cosa del genere. Ma loro per scherzo lo sono sicuri di questo, Tomas. Scusa, ma tu mi scrivi una cosa del genere? Non hai capito. Sono sicuro. Ok, sono sicuri. Che tu hai fatto la... Ma non posso... Non sono io, no? Scusa, c'è più un attimo. Mi accusa a me di rubare di che? C'è? Ma scherziamo? Ma questo non si deve riuscire da pure. Hai chiuso, le cose. Non li fai fare qui, eh? Aiuto. Sì. A mio favore. A mio favore. No, no. Aspetta. Lo spiego io. Non lo spiego, ma perché la dice che praticamente tu hai rubato con il tuo computer? No, no, no. Qui dice che riscontriamo tentativi di falsificazione a favore di Colombaretti. A favore, non a tentativo di Colombaretti. E allora... Ma perché sul sito l'ho visto? Adesso l'ho visto. Se ne stiamo parlando adesso. Perché? Non lo so, ma infatti io non c'ho il numero di Domenico Carella per parlare. Cioè ti ho detto qua praticamente gli hanno dato del lato. Qui dico... Del lato... Non c'è il numero di Carella. Cioè ma poi sul sito riesce in tutto il mondo. Cioè non ho una cosa... Qui dice che ho metto il suo tentativo di falsificare. Di falsificare. Di falsificazione a favore mio, come se qualcuno mettesse voti a mio favore per farmi riva primo. Ma amminti una roba del genere in un page sul sito? Cioè... Cioè senza neanche avvisarmi. Non c'erano lo squalificato. Direttore... Magari con lui è stato una cosa... Ma io là per là, squalificato pensavo campionato. E io dopo pensavo... Sì, squalificato pensavo così dopo. Non mi ha chiamato come voi, ho detto squalificato. Direttore... Comunque è una cosa grave questa. Ma squalificato da sito. No, ma da sito, dall'ultimo... Cioè... Ma è una cosa grave perché gli hanno dato del lato. Ma c'è una brutta accusa, secondo me. E loro per fare una cosa del genere sono convinti che lui ha falsificato... Beh, ma anche se fosse... Dovrebbe... Siamo in una società... Vabbè, ma pure se... Ma poi... Ma aspetta... Ma io che puoi falsificare i voti... Cioè... Ma che senso ha? Ma poi come si fa? Non lo so... Ebbene, non dire come si fa... Ah, ma... Voi ce l'hai spiegato adesso... No, non hai capito... Non siamo in DNS e ci sono i cookie nel computer... Non riesco... E allora c'è tutto... E allora c'è approvato... E allora c'è approvato... E allora c'è approvato... C'è approvato... E' una specie... E i cookie... Oh... Vabbè ci siamo giocati la vasca di un massaggio... No... No... Quella è una roba... La cosa brutta è che esce una cosa del sito di questo tipo... Perché chiaramente non ha una cosa per dire... La vasca chi la vince la vince... La vince l'opzione del nostro amministratore... Ma non c'è decato... Però se tu ti dà 10 euro al giorno... Per forza... Ma è una moto, non hai capito... Io non... Non hai capito... Non hai capito... E allora... Se sono io... Qui in Italia... Sul sito di... Sul sito di calcio... Si... Invece in prima parte... Tutto il mondo... Un pesce... Un pesce... Non è... Ma poi... Appena... Hai capito che è successo Don Pagno? Praticamente... A lui... Praticamente... Sono... Eh... Una... Una... La classifica di rendimento... Eh... E' uscito l'articolo che... Sono squalificato... Ma è stato squalificato... Perché... Ci sono tentativi di falsificazione a mio favore... Da parte di qualcuno... Quindi... O da parte di qualcuno... Loro... Intendono me così... Perché così... No... 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 Non sono sicuri che lui... Così mi fanno... Sì... Ma cosa fa? Ora qua! Si... Ma adesso... Si... 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 Se... Si... No, ti sto dicendo che la votazione funziona, che tu lo dà in voto il lunedì. Che pensate tu? Approvato! Me l'hanno detto! Eh, me l'hanno detto! Me l'hanno detto! Me l'hanno detto!